Ok, di nuovo a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans, signori! E quest'oggi non siamo da soli perché stiamo in compagnia del mitico Lellone! Buona cuccioli, come state? Spero tutto bene! E Cirissone! Cirissone, ma oggi ho visto che sono cominciati gli attacchi e gli assalti alla capitale! Esattamente, e siccome ce l'hanno chiesto anche nei commenti, noi andremo a fare gli assaltini alla capitale. Ma prima di iniziare, voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione c'è il link della mia Amazon Wishlist. Se volete passarci e darci un'occhiata a farmi un regalino, io ne sono molto molto onorato! Sto vedendo Lello dallo schermo e mi fa venire da ridere, però raga, passateci! Inoltre c'è il bellissimo sito di Ko-fi, dove potete fare attuazione singola o a cadenza mensile! Sceglietevo il prezzo, sceglietevo tutto, direi che è molto molto onesto! Oltre a questo piccolo momento di spam, signori andiamo a vedere un pochettino le varie cose! Ovviamente qui c'è un mega spoiler che avrete visto, no, dai video perché usciranno dopo! Però va bene, a noi che ci frega, regà, che ci frega! Poglieroni! Che ci frega! Ci abbiamo gli assalti alla capitale, cinque begli attacconi! E siccome Lellino è ritornato a giocare a Clash of Clans, regà, passate anche dal suo canale perché ha fatto già il primo video dove faceva vedere un po' di cosette! Io ho fatto vedere il mio visaggio quando l'ho lasciato, regà, cioè è una roba che è wow! Esattamente, quindi, regà, facciamo gli assalti così gli facciamo vedere come noi attacchiamo e poi magari nel suo canale sicuramente troverete il video dove lui andrà ad attaccare! Esatto! E magari metterà in atto i miei insegnamenti! Chi lo sa se sono validi! Maestro, insegnami! Insegnami! Insegnami, maestro! Quindi, regà, ci stanno questi villaggi, iniziamo subitissimo, ovviamente sapete già, magari qualcuno, se lo ha visto il video precedente, io attacco dei full miner perché secondo me è la combinazione migliore nella capitale. Ti posso chiedere una cosa, perché i miner, dato che, sai, vanno sotto le pareti e sotto a tutto, non ne frega niente, perché ci metti spaccamuro vicino, cioè o almeno quelli? Semplicemente per riempire lo spazio rimanente, perché non c'entrava un altro miner e quindi ci piazzi quelli là che semplicemente esplodendo, occupano poco spazio, esplodono e c'hanno due barbari, quindi era solo per averci un po' di truppe in più, niente, non c'era proprio una logica. Guarda quanto sono cattivi questi miner, ovviamente, regà, sapete gli attacchi alla capitale sono un po' più lenti, quindi magari sarà un po' più smosh sta cosa, però. No, vabbè, ma ci stassi, cioè io ti dico, io sono abitato ad attaccare quando ci giocavo con il Mountain Golem, se non sbaglio, quindi tranquillo, è ancora più lento, si chiamano quello, che figa, che figa sta cosa con tutti quanti Ghost Blitz, non l'avevo mai visto. neanch'io così tanti tutti insieme, che cosa sta succedendo? dobbiamo mettere una bella cura qua, perché così almeno iniziano a riprendere un po' di vita, se no rischiamo male, ovviamente l'attacco con i super miner, i mega miner, i miner in realtà sono miner classici nel villaggio della capitale, dovrebbero essere i super miner degli attacchi classici, normali. c'hanno tanta vita, ma sono lenti, e più che altro bisogna stare attenti, perché quando incominciano a perdere troppa, troppa vita, devi piazzare la cura al momento giusto, perché stando sotto terra non si curano. quindi anche se c'hai la cura, tu gliela piazzi sopra, sotto terra, loro non si cureranno mai, quindi devi beccare il punto più ottimale, dove loro stanno più tempo per farli curare. non ci sto capendo, stanno esplodendo tutti, sì, perché questo è, è difficoltoso in realtà questo villaggino da attaccare, perché è uno dei più, quelli più in basso, ok, di solito qua, non so se ce la fai con due, no, io quando ti giocavo c'erano tipo tre villaggi in croce, forse perché erano, era probabilmente all'inizio, adesso ne hanno messi tipo un botto, sì, dovrebbero essere 7 o 8 almeno, credo, e quelli più in basso ovviamente sono quelli più difficili o quantomeno che hanno più strutture da dove distrugge, a parte la capitale che è proprio quella che ce l'ha in assoluto, e va bene, anzi ti devo dire che penso che ce la faccio proprio a farlo con due attacchi, tranquillamente, non pensavo, e stanno ancora in vita, in realtà l'unica pecca è il tempo in questo caso che ci viene contro, perché se avessimo avuto un altro minuto, non ti dico, no, forse no, perché stanno molto scarsi di vita, però avrei potuto fare, sì, guarda qua, madonna, ma esplodono pure quando muoiono, sì, quando muoiono lasciano una bomba e scoppiano, fanno un danno, fanno molto più danno quando muoiono in realtà, se la rapide è tutta, capito, proprio così esagerati, quindi direi molto onesto, abbiamo, abbiamo, c'è stato attacco proprio al volo giusto per ripulire quelle quattro strutturine che sono rimaste, perché mi raccomando, regà, una cosa importante quando fate gli assalti della capitale, almeno non so poi come siete organizzati nei vostri clan, scrivetemelo semmai qui sotto nei commenti, giusto per confrontarci un pochettino, regà, finite gli attacchi che avete iniziato, perché è odioso, è odioso dover iniziare un attacco che al 90% io devo spregare, un attacco io per colpa qua, non si fa regà, non si fa, che poi fondamentalmente non cambia nulla, perché le medaglie che tutti quanti i membri del clan ricevono, ok, alla fine degli assalti, quindi a domenica mattina, fondamentalmente sono per tutti uguali, a seconda se attacchi e fai 300% o fai l'1%, è per tutti lo stesso. Sì, ma c'è la classifica, allora non mi mettere la classifica, capito? Eh, sì, vabbè, ci metti la classifica, quello è vero. Se ci metti la classifica, io pretendo di poter avere le stesse cose di tutti. Pretendo di poter avere le cose esatto, perfette, sì. Scusa, se non mi metti la classifica e tutti ci stringiamo la mano, o il pacco, come preferisci io. Preferisco la mano, rimaniamo sul personale, perché il pacco, insomma, direi anche di no, però va bene. Ovviamente, ragazzi, a me mi hanno lasciato tutti i villaggi più difficili, cioè, mi hanno lasciato, parliamone, perché vedevo raccontare anche questa storia. Decidiamo di registrare questo video, ok? Mentre sto per iniziare a registrare, vedo che c'è un nostro amico, un altro partecipante del clan, che inizia ad attaccare i vari villaggi, dico, ok, che palle, dico, così non posso iniziare con la mappa bella pulita io come primo. Faccio ok, mi metto con il secondo account. Madonna, sono esplosi tutti, sì. No, fra... Ma in che senso? Ma i draghi? È colpa dei draghi? È colpa dei draghi, mi li hanno schiesto. Io, ragazzi, parlo, non sto attento sul gioco, faccio le cappellate tipo questa tra cui. Va bene, va bene. Dicevo, mi metto a pulirli con il secondo account. E, signori, non sono riuscito a pulirli tutti, quindi mi sono lasciato i villaggi più difficili. Una volta di me, sì. Zoom. Praticamente mi sono fatto del male da solo perché se mi facevo i cazzi miei era meglio, raga. Stavi meglio. Ovviamente, però, va bene, è questo il bello, dimmi. Ma questa qua, con i draghi, non serve meglio di po' scoppiarli? Chiedo per un amico, nel senso di utilizzare un po' il finale. Eh, sì, in realtà sì, potresti attaccare in tantissimi milioni di modi meglio dei miner. Ok. Però, io attacco con i miner, quindi devo attaccare con i miner, punto. No, 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 è questo il principio. Capito? Perché so che hanno del potenziale. Giusto, no, no, è giusto, giusto. Io stavo soltanto rifacendomi agli insegnamenti che mi avevi dato lo scorso video sul mio canale. Allora, in realtà, adesso io non mi ricordo bene che truppe c'è stanno, tutte quante come si chiamano, quindi magari se aspettiamo appena finisce questo attacco ti spiego un pochettino meglio come fare gli attacchi oltre ai miner. Ok, è un attacco abbastanza efficiente oltre ai miner, che se, come in questo caso, c'è i dragoni che ti spaccano il sederino, metti altre truppe e fai il panico anche tu. Quella freccia è proprio grossa. Sì, quella freccia è proprio cattiva, sì. È proprio enorme. È proprio grande. Oddio, stanno esplode tutti quanti, guarda lì che belli. Poveri miner con i dragoni. Poveri miner. Cioè per attaccare questo villaggio, regà, tre attacchi sono tantissimi. Io so del parere che almeno tu per fare un punteggio perfetto, punteggio perfetto, chiamiamolo punteggio perfetto, devi massimo impiegare due attacchi per ogni villaggio. Ok. Più di due attacchi già significa che hai sbagliato qualcosa. Ok. Un attacco non ce la fai perché è impossibile. È impossibile. È troppo poco tempo per tutte le strutture che ci sanno. Assolutamente. Almeno due attacchi riesci a farli. Comunque, dicevamo, se vai a modificare l'esercito, una cosa buona, una buona combinazione, oltre ai miner, che poi noi ci abbiamo quasi tutto sbloccato in realtà, io utilizzavo un draghetto, che occupa 40, occupa molto, quindi soltanto uno lo metti proprio dietro per ultimo che pulisce quello che lasciano gli altri. Ah, ok. Poi si va di domatori. Questi qua fanno il panno. Sì, 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 me li ricordavo. Si fanno male, perché tra l'altro c'è quello volante che poi scoppia e casca e diventa un altro domatore, quindi tanta roba. Il porto volante, bellissimo. Tanta roba, quello lì. Poi utilizzo i barilli d'ossa, due, due barilli d'ossa, perché questi arrivano nel punto dove devono arrivare scoppiano e cascano i scheletrini. Ma ti spiegherò per quale motivo utilizzo quelli lì, perché c'è questa bellissima pozione qui, il cattesimo cimitero, sì, che ti spona i scheletri. Ne puoi avere tre in un attacco. Utilizzando, tu le piazzi praticamente, mettendo, spawnano tanti scheletri in due range, ok? Quindi nel primo range te ne spawnano un tot e poi a fine attacco te spawnano altri cosettini. La cosa bella è proprio questa, che queste qui rimangono, quindi anche il secondo attacco che tu andrai a fare per finire tutto quanto, ovviamente, oltre a quelle nuove che ci piazzi, anche queste vecchie ti continuano a spawnare scheletrini. Fai un mega attacco spam di scheletri esagerato, sì, è veramente tanta roba. Assurdo, ok? E poi ci piazzavo, vabbè, ovviamente questi qua, perché so i migliori in quanto a quantità di spazio, perché ne occupano cinque, ti lasciano quattro domatori, vabbè, ciao, quattro barbari, che vabbè, la dislessia, regà, è sempre mia compagna, che era molto molto buono, però va bene, finiamo questo attacco così, sprechiamo anche questi ultimi due. Vabbè, vai, vai, non avere paura, vai, è proprio una cattiveria, vai, così qua ci piazziamo la cura subito. Cirissone, l'ultima struttura, ce l'abbiamo? Sì, finalmente ce l'abbiamo, ok, ce l'abbiamo fatta, regà, sono passati 300 milioni di anni per voi, mezzo secondo, però non ci fate caso, non ci fate caso. Sì diventata la barba bianca, Cirissone. È vero, hai visto, sono diventato vecchio. Famo quest'ultimo attacco a questo qua, cerchiamo di impostarlo magari decentemente, in modo che poi lo possiamo finire ancora più facilmente con l'altro account. Sai che ti fanno cura il municipio malissimo? Sì, 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 no, vabbè, ma almeno una barra due stelle probabilmente le riusciamo a fare, eh. Vai che due, sì, cattivo pure. Non so dove stanno, quindi ho piazzato la cura a casa perché non li vedevo più. Però no, penso che due li facciamo. Ci abbiamo circa 5-6 miner ancora. Oddio, oddio, è esploso quello. Ok, forse qua dentro si curano. No, no, niente, sono andati sotto, sì. Sono andati sotto. Dai, che spacchi. No, è esplosato, si è avvicinato, erano due stelle. Dai, così neanche a fallo. Cioè, va bene. Ma no, mi ha spolliciato un attimo pure per Cirissone. Per la sfiga più totale, sì, la sfiga più totale. Proprio quando devo registrare, vabbè, ma ce sta, ce sta. Tipo veri te, è giusto così. Accediamo con il secondo account, ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qui, signori. Mi sono sbagliato prima, ho detto secondo account. In realtà è il terzo, questo. Però vabbè, li so dettagli, li so dettagli anche qua, raga. Ci stanno un po' di cosette da fare. Anzi, anzi, scrivetemi qua sotto nei commenti. Se magari volete vedere anche dei video su quest'altro villaggio. Io ve li porto, molto volentieri, su quest'altro account. Andiamo subitissimo a terminare questi attacchi. E adesso questo lo faccio con i miner. Poi ti faccio vedere le altre truppe che utilizzo. Finito questi attacchi ti faccio vedere come attacco in quell'altro modo. Quindi modifichiamo l'esercito. Faccio l'amontato. E ti faccio vedere un draghetto. Poi ci mettiamo già tre di queste. Vado su quelle che so più sicuro che mi ricordo come erano. Due di questi. Due dei barili d'ossa. E tutto il resto domatori. Bello. E ci abbiamo altri spazi, sì? Altri spazi? No, aspetta. No, 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 no. Vabbè, ci stai rincognito, raga. I maghi. Mi stavo a scordare i maghi. Ce li sono. Sette maghi. Quindi ecco, lei è esattamente questo. Attacco con... Questo attacco è bello misto, eh. Sei domatori. Due barili d'ossa. Sette maghi elettrici che fanno male. I due che ti aprono la strada e soprattutto diventano quattro barbari. Il draghetto dietro a pulì. E le pozionecine. Belle, belle, belle. Che ci fanno i tannini. Ok. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo fatta, raga. Ci siamo. Quindi per dirti, in questo caso, le difese che a me più danno fastidio, se ne andiamo a vedere tutta, sono queste. Queste. Eh beh. Sono molto fastidiosi. Queste. Sono molto fastidiosi. Questi due. E ovviamente poi c'è il cannone questo qua. Però adesso stiamo all'inizio dell'attacco. All'inizio dell'attacco, piazzi qualcosetta per pulire un pochino la zona. Magari vai con un paio dei maghetti, cerchi dei posizionali. Bene. Non come faccio io. Vabbè, niente. Ok, vabbè, è stato più intelligente lui. C'è andato da solo. C'è andato da solo. C'è il termano di 10. Quindi, stace, ti inizi a pulire un pochettino la zona. Ovviamente qua inizia a essere complicato perché ci stanno i razzi. Ci stanno i razzi. Però a noi che cavolo ci frega. Noi ce ne andiamo verso il dentro adesso. Non ci mettiamo proprio a girare un giro per tutto il villaggio. Puntiamo sul dentro. E direi che facciamo. Mettiamo uno e due. Ci piazziamo un po' qua. Tre. Via. Tutti diretti così. Le cattivelle. L'ultimi due maghi. Vai dei domatori. Proprio a cazzo duro. Il draghetto non lo piazziamo subito. Il draghetto lo piazzi leggermente dopo. Quindi tipo in questo momento. Ma leggermente. Poi, ovviamente, regà. Questo non è una combinazione. Ve lo dico chiaramente. Da utilizzare su questo villaggio qui. Ma mai nella vita. Perché su questo villaggio qui ci prendete il casolino. Perché infatti tra poco esplodono. È una dimostrazione. È una dimostrazione di come si possono utilizzare queste truppe. Ma non su questo villaggio, regà. Ovviamente se le dovete utilizzare. Utilizzatele magari su villaggi più tranquilli. Tipo Valle degli Stregoni. Laguna delle Mongolfiere. O anche Officina del Costruttore. Che so. Villaggi relativamente. Quando è alla fine. Abbastanza tranquilli. Riuscite a farli. E poi li potete utilizzare in punta dragone. Perché ci stanno i draghi. Che vi danno fastidio. Ci sta il drago vostro che li attacca. Ci sta il maghetto. Che comunque gli fa male al drago. Top, regà. Ci sta. Per questo villaggio. No. Adesso li stiamo utilizzando. Giusto per il meme. Per far vedere un pochettino anche a Lello. Come utilizzare le varie cosettine. Allora in questo caso. Grazie maestro per insegnarmi a giocare a questo gioco. Poi se vuoi utilizzare altre truppe. Vogliamo fare qualcosa per il meme. Facciamoci un attacco. Guarda. Questa non l'ho mai utilizzata. È la prima volta. Non so neanche come funziona. Cento posti ce li spiego tutti. Ah sì. È bellissima questa qua. Sono botti cento posti. Io questa qua te la posso spiegare. Perché la utilizzavo prima. Ok. Vai. Vai. Dimmi. Dimmi. Questa qua è un mega tank. Ok. Ok. Dove ogni volta che spara. Ok. Lascia degli scheletrini a terra. È volante. Uh. Bello. Spara e lascia scheletrini. Spara e lascia scheletrini. Bello. Allora è volante. Quindi ci fanno un attacco full volante. Raga. Vai. Ce lo fanno così cattivo. Dei draghi. Dei draghi. Mi gusta. Proprio prepotente. Con venti posti che ci mettiamo. Ci mettiamo. Un drachetto infernale. Ok. E questi. Vai. Sto. 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 Che pozione anamotizza. Eh sì. Qua direi furia. La furia è interessante in realtà. Sì. Facciamo due furie o una furia e no una scheletro non conviene. Una furia e una cura non conviene. E lo stesso. Ma due furie sì. Sì 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 sì. Ma vai. Ma vai con due furie. Ma sì. Ma fanno cattivissimo. Cattivissimo. Quanto lo vuoi cattivo dimmi. Ah sì. Proprio tanto. E' talmente tanto cattivo che questo gli fa implorare pietà. Che è proprio talmente tanto cattivo? Allora vamo così. Proprio così. Proprio così sì. Bello. Vai. Bello. Tutto là. Via. Vado da tutto là. Vado. Oh ma. Bello. Guarda come spara i scheletrini. Che figo. Che è detonato proprio così. Vabbè questa è raga. E' ovviamente attacco sprecatissimo per il meme. Però ci sta. Perché guarda un po'. Guarda un po' che stanno spona. Gli scheletrini nell'attacco ne prima. Ma stagolo. Vai con lo spam signori. Che bordello Ciris. Bello 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 bello. Io questa truppa l'ha. Oh ma che. Ma escono anche dei cosi. Oddio. Sì. Sì. Lascia gli scheletrini. E' bellissimo. Ah io pensavo che erano come gli sparava. Come sparava lui cascasse lo scheletrini. Invece no escono proprio. Fichissimi. Gli scheletrini è tipo ogni volta che viene colpita roba del genere. Lui spara e mi potete così lasciare gli scheletrini. Figo. Raga abbiamo usato una nuova truppa per il meme. Io non l'ho mai usata questa. Per figa oh. Raga. Questo più o meno era un modo un po'. Eh. Cacciarone e confusionario. Per farvi vedere come. Attacco io soprattutto per spiegarlo anche a Lello. E ovviamente raga. Per ricordarvi che se volete passare anche sul suo canale. Lui ha riniziato a giocare. Come ho detto all'inizio del video. Passateci. Perché ha fatto un video molto molto carino. E soprattutto. Troverete anche gli assalti dove mi fa vedere. Tutti gli insegnamenti di questo video raga. Quindi. Vediamo se sarà in grado di applicargli al meglio. O anche meglio di me. Addirittura. Perché. Oh. Eh. Che ne sai. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Quindi passate anche dal suo canale. Ovviamente vi invito ad iscrivervi raga. Perché è importantissimo. Attivate la campanellina. Per rimanere sempre aggiornati su tutti i video. Che pubblico regolarmente. Martedì, giovedì e sabato. 14.30 sul canale. Condividete il video con i vostri amici. Importantissimo. E lasciate anche un bel like di supporto raga. Qui da Ciris e da Lellino. E' tutto. Un saluto. Bye.